La comunità LGBTQIA+, si ritrova spesso a far fronte a pressioni psicologiche sui violi rispetto a quelle che vessano la società eterogisnormata. Anni fa, questo peso mi portò nel circolo vizioso degli psicofarmaci e della difendenza. Era durante le crisi di astinenza che scoprivo tutte le mie personalità, che cercavo di appagare con il sesso, che utilizzavo come un ulteriore farmaco. Negli incubi in quegli anni incontrai Ather Black. E questa è la tua storia. Ather Black Me siento una mierda, perdon por fallarme, hoy rompo mis miedos, estos demonios no ganarán. Non è una carica, non è una carica. Non è una carica, non è una carica. Ather Black Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!